La spettrometria di massa isotopica può essere veramente una valida alleata nello studio dei beni culturali? Io sono Marco Ferrante, fondatore di Trace Technologies, e lo vedremo in questa breve lezione. Eccoci qua all'interno della presentazione. Volevo ringraziare Ayer per avermi dato l'opportunità di potervi parlare di applicazioni scientifiche nel settore dei beni culturali, ospitandomi nel loro bellissimo canale YouTube. Ne approfitto inoltre per parlarvi un pochino di chi è Ayer. Dunque, Ayer è un'associazione italiana che è nata nel 1993 ed è la principale associazione a carattere scientifico senza fini di lucro, che riunisce studiosi, professionisti e ricercatori che sono attivi nel campo delle applicazioni scientifiche e dei beni culturali. La vision di Ayer è sicuramente quella di promuovere e sviluppare attività di ricerca, didattiche e professionali per lo studio e la salvaguardia del patrimonio culturale, utilizzando delle metodologie scientifiche. Essa promuove contatti e network tra ricercatori di discipline scientifiche e quelli di discipline umanistiche. Per questo motivo, Ayer incoraggia proposte ed approcci operativi innovativi, che portino al costante sviluppo di nuove tecniche, che possono essere non invasive o microinvasive, all'affinamento di tecniche per la datazione di studi di provenienza, o addirittura allo sviluppo di sistemi di monitoraggio delle opere e degli ambienti di conservazione. Detto questo, entriamo nel vivo della nostra presentazione. Eccoci qui, finalmente alla prima slide, nella quale vorrei parlarvi un pochino di quelle che saranno le tappe del nostro viaggio. Parleremo di diversi argomenti, tra cui una breve introduzione a Trace Technologies e al servizio Archeo Trace nell'ambito dei beni culturali, la spettrometria di massa esotopica, quindi il core della nostra presentazione, parleremo delle applicazioni della spettrometria di massa esotopica e soprattutto della strumentazione, e infine parleremo dei rapporti isotopici dello stronzio e alcuni case history, soprattutto nel caso del cimitero di Pantano Borghese. Galileo Galilei diceva, misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Partendo proprio da questo principio, abbiamo sviluppato l'idea che c'è dietro Trace Technologies. Partendo dunque dal principio galileano, abbiamo sviluppato il servizio Archeo Trace. Esso si basa essenzialmente sul concetto dell'archeometria, cioè la misura di ciò che è antico, che è un termine sintetico che indica un insieme di metodi scientifici che permettono lo studio di una vasta gamma di materiali. Quando viene rinvenuto un manufatto antico, sorgono una miriade di domande, domande di natura appunto archeologica, da dove verrà questo manufatto, chi lo avrà prodotto, con quali materiali. Quindi per rispondere a queste domande c'è bisogno di un numero molto elevato di competenze. Archeo Trace non fa altro che essere un link tra tutte queste competenze per poter rispondere appunto a queste domande archeologiche. Io direi di iniziare il nostro viaggio, ma da dove partire? Partiamo proprio dalle fondamenta, dalla materia. Ma che cos'è la materia? La materia è qualsiasi cosa abbia massa e che occupi dello spazio. Basti pensare al nostro organismo. Noi siamo fatti di materia. Ma perché siamo fatti di materia? Perché essenzialmente se andiamo al ritroso, quindi dagli apparati, dagli organi, i tessuti, le cellule, gli organelli, le macromolecole, le molecole e gli atomi, arriviamo con gli atomi ai mattoni fondamentali che costituiscono la materia. E quindi a questo punto ci sorge una domanda. Ma come si misura la massa atomica e subatomica? Prima di rispondere a questa domanda è importante fare un passo indietro e definire che cos'è un atomo. Un atomo è costituito da un nucleo centrale che presenta protoni e neutroni e attorno a questo nucleo gravitano gli elettroni. Ogni atomo è caratterizzato da un numero atomico e da un numero di massa. Il numero atomico non è altro che il numero di protoni presenti all'interno del nucleo e il numero di massa invece il numero di protoni più neutroni che sono appunto presenti nel nucleo. A questo punto possiamo definire che cos'è un isotopo dal greco isos stesso e topos posto. Cioè è un atomo di uno stesso elemento chimico avente perciò lo stesso numero atomico z ma un differente numero di massa A. Un esempio è l'atomo dell'idrogeno. Come possiamo vedere ha un numero atomico pari a 1 però ha un peso atomico differente cioè 1.0079. Questo è dovuto proprio alla presenza degli isotopi dell'idrogeno che apportano un contributo alla massa che sono il deuterio e il trizio nel caso specifico. Definiti quelli che sono gli isotopi possiamo adesso addentrarci nel mondo della spettrometria di massa. Ma che cos'è questa spettrometria di massa? Non è altro che la nostra bilancia, il nostro strumento di misura cioè quello che ci permette di individuare quali e quanti elementi ed isotopi degli elementi sono contenuti nella materia. Parlando di spettrometria di massa entriamo nel vivo e parliamo appunto della spettrometria di massa isotopica cioè quella che ci permette di effettuare delle precise misure degli isotopi. Tra le tecniche troviamo la tecnica TIMSS, Thermal Ionization Mass Spectrometry che è una tecnica di riferimento da oltre 50 anni e poi troviamo la Multiple Collector ICPMS che è una tecnica innovativa entrata nell'ultimo decennio. In questa slide andremo a vedere un pochino come lavora uno spettrometro di massa e ho voluto focalizzarmi sulla tecnica TIMSS che è la nostra tecnica un po' di riferimento. Uno spettrometro di massa presenta dei punti focali. Il primo punto è sicuramente la parte della ionizzazione. La tecnica TIMSS ad esempio utilizza quella che è una ionizzazione di tipo termico che cosa vuol dire? Che il campione di solito in forma liquida viene depositato su di un filamento di regno ad alta purezza viene quindi fatta passare della corrente all'interno di questo filamento il filamento diventa incandescente questo provoca l'evaporazione e quindi la ionizzazione del nostro campione e produce quindi un fascio ionico. Questo fascio ionico viene accelerato da una differenza di potenziale di circa 10 kV e passa dalla zona di ionizzazione fino ad arrivare all'analizzatore che in questo caso è un magnete. Il magnete perché agisce da analizzatore? Perché semplicemente sfrutta quella che è una legge fisica detta legge di Lorenz che ci permette di differenziare gli isotopi in base al loro rapporto massa su carica. Una volta differenziati i vari isotopi questi arriveranno nella zona di rivelazione che nel caso specifico sono delle tazze di Faraday ad alta accuratezza che ci permettono di avere una misura molto 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 precisa degli isotopi. la misura dei precisi rapporti isotopici trova diversi campi di applicazione ad esempio la geocronologia, l'archeologia, l'archeometria, la cosmocronologia e addirittura la tracciabilità alimentare. Entriamo dunque nel vivo della presentazione e parliamo di un elemento caratteristico lo stronzio. Ho definito questo elemento l'elemento che ci permette di indagare e scoprire la storia dell'uomo e adesso vedremo il perché. Ma vediamo come è presente lo stronzio in natura. Esso si presenta sotto forma di quattro isotopi lo stronzio 84, l'86, l'87 e l'88. La caratteristica dello stronzio è che presenta un isotopo appunto lo stronzio 87 che è radiogenico che cosa vuol dire? Che deriva dal decadimento radioattivo del rubì di 87 e ha un tempo di emivita di circa 4.7 per 10 alla 10 anni. Queste caratteristiche radiogeniche dello stronzio permettono di avere delle grandi potenzialità soprattutto perché se andiamo a misurare i precisi rapporti dello stronzio 87 su 86 essi rifletteranno le variazioni radiogeniche dello stronzio 87 nel suolo quindi diventa una sorta di tracciante in più la composizione isotopica di un campione può darci quindi delle informazioni molto importanti sulla geologia di un determinato luogo e inoltre processi biologici e biochimici come ad esempio il metabolismo non producono frazionamento isotopico. Dunque, lo stronzio abbiamo detto che è presente nella roccia dalla roccia può essere dilavato ad opera dell'acqua e passare nel suolo nel suolo subisce l'uptake da parte delle piante quindi entra nel ciclo delle piante fin quando non entra addirittura nella nostra catena alimentare quindi entra in contatto con l'uomo nell'uomo lo stronzio subisce un comportamento molto molto caratteristico e qual è questo comportamento? in realtà esso si fissa nello smalto dei denti nei primi anni di vita mentre subisce una continua sostituzione ad opera tra il calcio e stronzio nelle ossa questo che cosa porta? porta al fatto che una misura precisa dei rapporti isotopici nei denti nello smalto dei denti e nelle ossa ci consente di effettuare degli studi di migrazione cioè riuscire a capire eventualmente se le persone o una determinata persona è nata ed è morta in un determinato territorio oppure no definiti un po' come funzionano i rapporti isotopici dello stronzio e tutte le informazioni che ci possono dare nell'ambito della mobilità dei popoli andiamo a vedere qualche case history e vi riporto qui un case history appunto inerente alla paleoarcheologia che è stato sviluppato in collaborazione con la Darami University e riguarda il sito di Pantano Borghese dunque il sito di Pantano Borghese è stato scoperto in occasioni degli scavi per la Metro C a Roma ed è un sito molto molto interessante e adesso andremo a vedere il perché dunque perché abbiamo analizzato il sito di Pantano Borghese? perché essenzialmente l'antico modello di mobilità in Italia rimane piuttosto scuro soprattutto per quanto riguarda l'età del rame questo periodo infatti rappresenta uno dei periodi più interessanti della storia perché probabilmente è stato il teatro della diffusione continentale delle lingue indoeuropee e quindi riuscire a capire modelli di mobilità è assolutamente molto interessante inoltre Pantano Borghese è uno dei pochi siti dell'età del rame che è stato conservato quasi perfettamente inoltre questo sito presenta diverse anomalie nelle tombe soprattutto la tomba 10 e la tomba 12 di cui adesso andremo un po' a parlare più nel dettaglio hanno richiesto degli approfondimenti di natura isotopica avevamo a disposizione 13 campioni di denti umani e 4 campioni di marker locali che cosa sono questi marker locali? sono fauna, quindi ossa di animali che sono stati rinvenuti nel sito e anche campioni geologici, cioè terreno la preparazione dei campioni è abbastanza complessa per questo tipo di analisi di fatti i campioni di solito di smalto dentale vengono dissolti in acido e poi subiscono una purificazione per essere pronti poi ad essere analizzati nell'ambito dei rapporti isotopici mentre i campioni geologici di solito subiscono una lisciviazione cioè viene estratto soltanto la parte di stronzio biodisponibile che poi viene misurata mediante la spettrometria di massa isotopica in questa slide andiamo a vedere i risultati che abbiamo ottenuto dalle indagini isotopiche dei rapporti isotopici dello stronzio possiamo vedere sull'asse delle X il numero dei campioni analizzati e sull'asse delle Y i rapporti isotopici misurati come possiamo vedere abbiamo una tendenza soprattutto per i campioni geologici e i marker diciamo faunistici locali che è molto costante però invece abbiamo delle tombe caratteristiche che sono proprio la tomba 10 la tomba 12b e la tomba 12 che si discostano un po' dal segnale cioè quella che viene definita la baseline di Pantano Borghese e a questo punto ci siamo chiesti il perché e soprattutto se veramente potevano essere considerati dei parametri o comunque dei valori che veramente si discostavano dalla baseline di Pantano Borghese a questo punto abbiamo effettuato una piccola analisi statistica utilizzando la MED una Media Absolute Deviation che fondamentalmente ci ha permesso di definire un range e questo range è il range all'interno del quale cadono la maggior parte dei campioni di Pantano Borghese come possiamo vedere il campione T10 e il campione T12b e il campione T12 in realtà risultano essere al di sotto della soglia di Pantano Borghese e quindi fondamentalmente possono essere considerati come non appartenenti a quelli a baseline e questo è un dato molto interessante dunque i valori ottenuti ci hanno permesso di arrivare ad alcune conclusioni ma che necessitano sicuramente di approfondimenti la prima conclusione è che la fauna locale è compatibile con la maggior parte dei campioni di denti umani analizzati la seconda è che l'individuo presente nella tomba 10 è sicuramente un non local confermando studi anche inerenti alla paleodieta e la terza è che i rapporti otopici sono stati applicati per la prima volta su un infante infatti la tomba 12b è quella praticamente di un infante e sulla madre la tomba 12 quindi la statistica addirittura ha messo anche in evidenza che questi ambedue questi individui si discossano dal segnale di pantano borghese potrebbero essere considerati dei non local naturalmente è fondamentale per questo tipo di studi la formazione di gruppi di lavoro con competenze interdisciplinari come le storici dell'arte archeologi geologi chimici per portare appunto dei contributi sempre più innovativi questa prima parte della lezione finisce qui vi rimando alla seconda lezione nella quale parleremo degli isotopi del piombo nelle opere pittoriche nei piombi romani e in numismatica se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione trovate tutti i miei riferimenti nella descrizione di questo video ne approfitto inoltre per ricordarvi di seguire tutti i canali social dell'associazione Ayer e vi rimando alla prossima puntata ciao ciao